dal 23 al 25 aprile torna al real collegio il festival lucca città di carta tre giorni tutti dedicati ai libri all'editoria all'arte e alla stampa con oltre 90 eventi pensati per incontrare l'interesse di ogni tipo di pubblico tra le tante sorprese anche una mini cartiera storica tutti potranno così cimentarsi nella creazione della carta con gli stracci ma anche uno spazio biblioteca uno dedicato alla fotografia e tantissimi ospiti di interesse nazionale lucca città di carta è un evento organizzato da nati per scrivere e l'ordinario oltre 80 stand 100 ospiti ripartiti in questi tre giorni da carlo carelli a marco vichi da bouticchi a romana petri tantissimi ospiti ma anche tanti progetti speciali un progetto speciale quello in collaborazione con gli ognoni cecchi e covedenti sezione di lucca è quello della dell'ascolto della presentazione dell'audio fumetto ispirato un'avventura di verdevil un'esperienza interattiva che i visitatori potranno vivere indossando delle mascherine speciali per coprire gli occhi e quindi ascoltando quindi immergendosi completamente nella storia torneranno al festival anche i reading poetici e gli ambiti speed date per gli autori in cerca di una casa editrice tutti gli appuntamenti saranno ingresso libero